A Tortona Nico Porlezza, lui ha appena finito la sua prova nella Centon? 15 6 secondo per ora, come è andata? È andata bene, la cavalla saltava bene, la sentivo molto reattiva, per cui sono contento, è una cavalla che ho da poco e che ho montato su pochi percorsi in gara, ma che mi sta dando buone soddisfazioni. La cavalla che hai trovato? Mi è arrivata tramite un commerciante, Emilio Confalonieri, che monta qua, è anche un cavaliere professionista e con cui mi sto trovando, italiana e buona cavalla. Continuerai anche domani con la 115? Sì, domani l'ho iscritta di nuovo alla categoria C-115, che sarà una categoria a tempo su 10 salti e speriamo vada come oggi, anche meglio. Siete, sei giovane, lo farei da grande il cavaliere? Eh sì, è il mio sogno, lo spero. Monti qui al Torione? Monti qui al Torione. Come si sta? Si sta bene, è un bellissimo posto, un bellissimo clima, buone le strutture e il fatto di avere concorsi in casa è anche un'ottima opportunità. Chi ti segue? Luca Tartaglione. È il mio istruttore da qualche anno ormai. Una sicurezza. Sì, una sicurezza, un buon istruttore. Bene, grazie mille. Grazie mille voi.